Ennesimo sbarco di migranti sulle coste del Sulcis. Cinque algerini sono approdati ieri sera a Porto Tramazzo, sono stati identificati dai carabinieri di Carbonia e trasportati in un centro di accoglienza nell'Interland Cagliaritano. A Banoa stanzia 14 milioni di euro per l'acquedotto del Sulcis. Si tratta di un'opera che potrebbe risolvere le criticità legate all'approvvigionamento idrico soprattutto nel basso Sulcis. Piano Sulcis, 3.446 imprese nella zona franca urbana. Ammonta circa 44 milioni di euro il beneficio fiscale e contributivo già incamerato dalle piccole e micro imprese del Sulcis iglesiente grazie alla zona franca urbana. Calcio, il Carbonia vince a Siliqua. Nel campionato di promozione i bianco-blu hanno consolidato la leadership della classifica. Sconfitta invece per la Monteponi-Iglesias, pareggio esterno per il Carloforte. Ben ritrovati su Canale 40, l'avete sentito nei titoli dunque. Enesimo sbarco di migranti sulle coste del Sulcis. Cinque migranti algerini sono approdati ieri a Porto Tramazzo. Sentiamo i particolari in questo servizio. Nuovo sbarco di migranti sulle coste del Sulcis. Ieri pomeriggio i carabinieri hanno bloccato cinque algerini. Alle 18 un pescatore ha chiamato il 112 per segnalare l'arrivo di uno straniero nella zona di Porto Tramazzo a Teulada. Sul posto sono arrivate le pattuglie dei militari che hanno trovato i cinque algerini vicino al chiosco del custode del Porto Nuovo. Il barchino al momento non è stato trovato. Gli algerini in buone condizioni di salute, dopo le visite mediche e le identificazioni, sono stati trasferiti nei centri di accoglienza dell'Interland Cagliaritano. Lo sbarco di ieri rimane comunque strano viste le condizioni del mare che non erano delle migliori. E ora parliamo di Abanoa che ha stanziato altri 14 milioni di euro per la realizzazione dell'acquedotto del Sulcis. Si tratta di un'opera importante che potrebbe in un certo qual modo risolvere i problemi legati all'approvvigionamento idrico, soprattutto per i paesi del Basso Sulcis. Maggiori dettagli in questo servizio. Sbloccati ulteriori 14 milioni di euro per l'acquedotto Sulcis. L'amministratore unico di Abanoa, Alessandro Ramazzotti, ha firmato la determina per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva di un'opera fondamentale per risolvere le criticità legate all'approvvigionamento idrico, soprattutto nel Basso Sulcis. L'intervento riguarda la realizzazione della nuova dorsale nord-sud dell'acquedotto e si aggiunge ai lavori da 21 milioni di euro già appaltati per la realizzazione della dorsale centrale e alla diramazione tra Sant'Adi e Masainas, già realizzata, con un ulteriore investimento di 3 milioni di euro. Complessivamente, infatti, Abanoa sta investendo circa 40 milioni di euro per l'intero schema acquedottistico del Sulcis. La procedura di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva consentirà di mandare in tempi brevi l'appalto per realizzare due tratti di acquedotto fondamentali. Il primo riguarda la diramazione della dorsale centrale a partire da Narcao e fino al partitore di Sant'Adi, circa 7 chilometri e mezzo di condotte. È qui che si innesta il tratto già realizzato fino a Masainas, dal quale dipendono tutte le diramazioni per il Basso Sulcis. Il secondo tratto, quasi 8 chilometri di condotte invece, riguarda Carbonia, dalla galleria di Perdagius al partitore di Serbariu, da cui si diramano i rami nord verso Porto Scuso e ovest verso San Giovanni Suergiu dell'Acquedotto. Alla galleria di Perdagius arriverà la nuova dorsale centrale che partirà dal potabilizzatore di Baupressio. Le opere, per un importo complessivo di circa 21 milioni di euro, sono già state appaltate. Saranno raddoppiate le vasche d'accumulo al potabilizzatore e ciò consentirà di avere maggiore disponibilità di risorsa idrica per tutto il Sulcis Iglesiente, con particolari benefici soprattutto per il Basso Sulcis, dove è necessario effettuare chiusure notturne dell'erogazione nel periodo estivo. Dall'impianto di Baupressio partirà il nuovo tratto di Acquedotto, che sarà lungo quasi 20 chilometri e arriverà alla galleria di Perdagius. Sabato scorso all'hotel si è tenuto un incontro dal titolo Unidos per la zona franca. È stata l'occasione per parlare di zona franca, ma anche per parlare del referendum sulla riforma costituzionale previsto per il 4 dicembre. A questo proposito abbiamo intervistato il deputato di Unidos, Mauro Pili. Si avvicina l'aumento del referendum, il 4 dicembre Unidos è schierato per il no. Una scelta obbligata per un sardo e per i sardi, perché di fatto con questa pseudo riforma costituzionale si introduce all'articolo 117 del Coma IV il potere di supremazia nazionale, una cosiddetta clausola di supremazia nazionale che impone anche alla Sardegna qualsiasi tipo di intromissione statale nelle scelte e nelle imposizioni. Quindi è evidente che in base a quel articolo si può imporre alla Sardegna le scuole nucleari, si possono imporre i pannelli termodinamici che occupano distese di territorio e di terreni agricoli, si può imporre i rigassificatori sulle cose, si può sostanzialmente imporre tutto. La Sardegna sarebbe schiacciata nella sua specialità e questo avviene anche perché vi è una norma che ricollega lo Stato Autonomo della Sardegna con la riforma costituzionale sull'interesse nazionale. Quindi la Sardegna verrebbe di fatto schiacciata nella sua specialità e nella sua autonomia. Per quanto riguarda la zona franca? La zona franca è una grande opportunità che va perseguita però con l'esclusione della Sardegna dalla linea docanale italiana, bisogna mettere fuori dalla linea docanale la Sardegna e questo che noi affronteremo e proporremo oggi con ancora più forza. È evidente che su questo bisogna fare una scelta di sviluppo molto chiara e molto netta perché bisogna adattare lo strumento fiscale al tipo di obiettivo che bisogna raggiungere. Non bisogna fare la zona fiscale o zona franca per i cinesi o per chi viene in Sardegna a produrre nicchie particolari, ma bisogna farla per chi in Sardegna produce e in particolar modo per i sardi. E rimaniamo in un certo qual modo a parlare di zona franca perché sono 3.446 le imprese, le piccole e medie imprese del Succis Iglesiente che hanno beneficiato degli sgravi fiscali previsti dalla zona franca urbana che rientrano all'interno del piano Succis. Sentiamo maggiori dettagli in questo servizio. Ammonta a 44 milioni di euro lo sconto fiscale e contributivo già fruito dalle piccole e micro imprese del Succis Iglesiente grazie alla zona franca urbana. I dati dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dello Sviluppo Economico quantificano a ottobre 2016 in circa 44 milioni di euro il beneficio fiscale e contributivo già incamerato dalle piccole e micro imprese del Succis Iglesiente grazie alla zona franca urbana. Si tratta di un beneficio senza spese amministrative per le aziende interessate, cioè di una iniezione di liquidità pura. Le imprese che stanno effettivamente godendo il beneficio sono 3.446 con una distribuzione che segue l'andamento demografico degli abitati e quindi con una concentrazione maggiore a Carbonia, 766 imprese, Iglesias 681 imprese e Sant'Antioco 332 imprese. Notevole il dato di Carloforte con 271 imprese. Superano quota 100 imprese, Fluminimaggiore, Domusnovas, Gonnesa, Portoscuso, San Giovanni Suergiu e Villa Massargia. La misura funziona bene, è stata una scelta concretamente molto utile per migliaia di piccole imprese del territorio, ha commentato Tore Cherchi, coordinatore dell'attuazione del piano Succis. Il fondo totale delle risorse per la zona franca urbana vale 125 milioni di euro. L'ammontare delle risorse ancora fruibili nel programma, che ha un orizzonte temporale di 14 anni, con progressiva riduzione della percentuale dello sconto fiscale, vale complessivamente 81 milioni di euro. Il rilevamento di ottobre riscontra che rispetto al precedente monitoraggio febbraio 2016 è aumentato di circa 50 il numero di imprese che sta effettivamente usando il beneficio fiscale e contributivo, che ammonta infatti ora a 3.446 imprese. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Il consigliere regionale di Forza Italia, Ignazio Locci, si interroga sulla fine che può aver fatto l'impianto di pretrattamento dei rifiuti previsto a Saderredda, quindi a Carbonia. Sentiamo i particolari in questo servizio di Valentina Morgia. Che fine ha fatto il progetto di pretrattamento dei rifiuti a Carbonia? È ciò che si chiede il consigliere regionale di Forza Italia, Ignazio Locci, che continua, soprattutto perché non è stato ancora messo in funzione l'impianto costruito con questo obiettivo nei presi della discarica di Saderredda? Il consigliere Forzista le definisce domande legittime e spiega. I lavori sono stati conclusi, la sua gestione è affidata tramite regolare bando e il suo avvio prometteva ingenti risparmi per tutti i cittadini, ovvero una svolta per i comuni del Sulcis nelle operazioni di trattamento dei rifiuti. Un'infrastruttura che, finanziata con fondi regionali e comunali, servirà per portare l'asticella della raccolta differenziata oltre la soglia del 70%, continua l'Onorevole. Un limite che consentirebbe di conferire il secco nella discarica vicino del comune di Iglesias, anziché essere costretti a spingersi verso gli impianti di Villa Cidro. Più tempo passa, più i contribuenti sulcitani sono chiamati a pagare costi di trasporto che a quest'ora sarebbero dovuti essere già abbattuti. E invece no, le famiglie del territorio pagano tariffe salatissime a causa di una burocrazia come al solito incancrenita. Il consigliere infine conclude affermando, i tempi sono più che maturi per rendere fruibile l'impianto progettato per carboni e il bacino di riferimento. Non vorremmo che oscure e incomprensibili interessi economici si stiano mettendo di traverso il tutto ovviamente a discapito dei cittadini. Domani presso l'ospedale Santa Barbara di Iglesias sarà possibile effettuare uno screening gratuito per quanto riguarda la patologia del diabete. L'iniziativa rientra all'interno della giornata mondiale per il diabete. Sentiamo i particolari in questo servizio. In occasione della giornata mondiale del diabete istituita nel 1991 dall'International Diabetes Federation e dall'Orgazione Mondiale della Sanità, il Centro Diabetologia di Iglesias organizza. In collaborazione con l'Associazione Diabete Iglesias Carbonia On Loose, uno screening diabete gratuito destinato ai parenti stretti di persone affette da questa patologia. Il programma di prevenzione, rivolto esclusivamente a individui sani e non a persone che hanno già ricevuto la diagnosi di diabete, prevede una visita medica e una valutazione della glicemia. Attraverso questo esame infatti è possibile determinare se la persona è a rischio diabete o se eventualmente ha già sviluppato la patologia. Per partecipare occorrerà arrecarsi liberamente presso il Centro Diabetologia dell'Ospedale Santa Barbara di Iglesias in via San Leonardo numero 1, martedì prossimo 15 novembre, ovvero domani, dalle 15.30 alle 18.00. Cambiamo argomento. Partirà anche a Iglesias il corso di erboristeria popolare sarda dopo alcuni anni di incontri con l'esperto di antica erboristeria popolare Gian Paolo De Martis. L'obiettivo del corso è quello di insegnare gli usi erboristici e commestibili delle piante spontanee della Sardegna. La prossima lezione verterà sulla preparazione di olioliti, tinture madri, creme e inguenti medicinali. Sarà l'occasione per approfondire la conoscenza delle erbe spontanee ma anche per cercare di conservare l'equilibrio degli ecosistemi naturali, della biodiversità e dell'alimentazione. Sono previsti otto incontri da oggi fino al 2017. E ora cambiamo argomento e parliamo dell'aumento dell'aliquota dell'RC Auto di cui abbiamo già parlato la settimana scorsa. È previsto un incontro a questo proposito mercoledì presso l'Aula Consigliare di San Giovanni su Ergiu. Sentiamo i particolari nel servizio. Contro l'aumento delle imposte sulla RC Auto nel Sulcis Iglesiente, il Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione, sezione provinciale di Carboni Iglesias, ha organizzato un'iniziativa che si terrà mercoledì 16 novembre alle ore 15 presso la Sala del Consiglio Comunale di San Giovanni su Ergiu. L'obiettivo è protestare contro la delibera numero 45 del 27 ottobre scorso con cui il commissario straordinario ha disposto all'aumento delle imposte sull'assicurazione obbligatoria RC Auto. Si tratta di un aumento del 3,5% dal 12,5% dello scorso anno al 16% di quest'anno. Un salasso che equipare il Sulcis Iglesiente alla liquota già attiva nel Cagliaritano e nel Medio Campidano. L'aumento riguarda esattamente tutto il territorio della nuova provincia del sud Sardegna, la quale comprende 107 comuni per un totale di 357.000 abitanti. Immediata la reazione negativa da parte degli amministratori del Sulcis che considerano un'iniquità l'aumento della liquota sull'RC Auto. Bentornati in studio. Venerdì 18 novembre dalle 9 del mattino a Iglesias si terrà la festa della scienza intitolata Iglesia Scienza. Un'intera giornata di appuntamenti con la fisica, la chimica, l'astronomia, le scienze naturali e la matematica raccontate con diversi linguaggi e attività per coinvolgere studenti, scuole e famiglie. Il tema di questa prima edizione sarà incentrato sulla scienza tra Islam e Occidente. L'evento è organizzato dall'associazione Agora di Iglesias. E ora cambiamo argomento e apriamo la nostra ampia pagina dedicata allo sport, cominciando con il campionato di promozione di calcio dove il Carbonia ha consolidato la leadership in testa alla classifica vincendo 2 a 1 a Siliqua. Nella settima giornata del campionato di calcio di promozione, girone A, il Carbonia torna alla vittoria vincendo in trasferta contro il Siliqua per 2 a 1. I bianco-blu hanno consolidato il loro primato in classifica con 18 punti frutto di 6 vittorie su 7 partite. I ragazzi allenati dal mister Andrea Marongiu hanno battuto il Siliqua grazie ai gol di Cosa e di Corona, inframmezzati dal momentaneo pareggio dei siliquesi con Contu. Il gol vittoria dei carbonienzi è arrivato su calcio di rigore trasformato con freddezza dal bomber bianco-blu Corona a 9 minuti dalla fine dell'incontro. Sconfitta invece la Montepone Iglesias che è caduta in casa per 2 a 0 contro il Selarjus. Gli iglesienti hanno 7 punti in classifica e rischiano di essere risucchiati nella zona retrocessione. Zona retrocessione in cui si registra il pareggio prezioso del Carloforte che è impattato 1 a 1 sul difficile campo del Sueulo 2010. I tabarchini sono quindi saliti a quota 5 punti al quart'ultimo posto della classifica. Per quanto riguarda il calcio a 5 nel campionato di Serie C2 il Carboni ha perso la quarta partita consecutiva, stavolta in trasferta contro il Futsal San Sperate per 6 a 1. I carbonienzi sono ultimi in classifica a quota 0 punti. Dal calcio ci spostiamo alla pallavolo. Vittoria per la VBA Olimpia a Sant'Antioco che sabato scorso ha regolato con un secco 3 a 0 il Gorgonzola. I particolari in questo servizio. L'Olimpia non si ferma e continua la sua corsa verso la vetta del campionato maschile di Serie B1 di pallavolo. Sabato scorso i lagunari si sono imposti in casa per 3-7 a 0 contro i lombardi del Gorgonzola. La squadra allenata da coach Longu si è presentata sul parquet del pala Giacomo Cabras con il sestetto tipo formato dalla diagonale Muccione-Genna, dallo schiacciatore ricevitore Crusca, dai centrali Deserio e Usai e dal libero Moci. L'Olimpia ha vinto il primo set 25 a 21 senza troppe difficoltà sfruttando soprattutto la capacità dei centrali di murare gli attacchi avversari. Maiuscola anche la prestazione in difesa con il libero Moci sugli scudi. Lagunari meno performanti invece in attacco dove comunque Luca Genna ha chiuso la partita mettendo a referto 13 punti seguito da Usai con 10 punti, Crusca ed Eserio con 9 mentre Muccione è andato a segno 7 volte. Quanto bastava per avere ragione della formazione Lombarda. Formazione Lombarda che ha però seriamente impensierito i lagunari soprattutto nel secondo set dove si trovava in vantaggio di 3 punti 21 a 18. Ma anche nel secondo parziale gli antiochensi sono stati bravi a rimanere agganciati al treno dei Lombardi riuscendo addirittura ad impattare e poi a ribaltare il punteggio vincendo il set 25 a 22. Senza storia invece il terzo ed ultimo set vinto dall'Olimpia Sant'Antioco con il perentorio parziale di 25 a 17. Per effetto di questa vittoria l'Olimpia guadagna il secondo posto della classifica con 12 punti all'attivo alle spalle dei Diavoli Rosa Brugherio che guidano la classifica con 14 punti. E sabato prossimo sarà nuovamente tempo di derby con i lagunari che giocheranno in trasferta contro il Sarroc. E ora parliamo di basket. Nel campionato maschile di basket Serie C Silver il Calasetta vince ancora 88 a 59 contro l'Olimpia Cagliari. Il top scorer del match è stato Barreiro con 37 punti seguito da Wirlich, Angius e Deliperi i quali hanno messo a segno 11 punti a testa. La formazione calasettana è ora prima in classifica a pari punti con l'Esperia. Bene con lo sport chiudiamo la nostra edizione odierna del TG40 ora vi lasciamo alle previsioni del tempo e in seguito al telegiornale in lingua sarda NOAS in corso. Grazie e arrivederci. Previsioni per martedì 15 novembre. Nuvolosità sparsa. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno dal nord-est con intensità di 12 chilometri orari, possibili raffiche fino a 17 chilometri orari, temperature minime comprese tra 8 e 14 gradi e massime comprese tra 16 e 19 gradi.